Buongiorno ancora dagli studi di canale 81 Lazio, il nostro consueto appuntamento con le ultime notizie in arrivo dalla regione. Iniziamo dalla cronaca, da Latina esattamente dove si è registrata una carambola d'auto nel tardo pomeriggio di ieri tra via Chiesuola e via delle industrie alle porte di Latina Scalo. In circostanze ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Latina intervenuti con le pattuglie della sezione radiomobile per i rilievi, tre vetture sono entrate in collisione tra loro nel tratto di rettilineo tra la strada statale Appia e l'incrocio con via delle industrie. Due macchine si sono scontrate frontalmente, mentre una terza è stata urtata all'altezza della ruota anteriore sinistra. Dopo la segnalazione al 112 sono intervenute anche le ambulanze del pronto intervento sanitario che hanno soccorso i tre conducenti e due passeggeri, tre uomini e due donne, tutti medicati sul posto prima di essere trasportati in ospedale. Le persone coinvolte non hanno però riportato gravi conseguenze. E parliamo ora delle proteste ancora in corso a Roma per il caso Cospito. Ieri si sono riuniti davanti all'ingresso dell'Università La Sapienza a Roma per chiedere ancora una volta la fine del 41 bis per Alfredo Cospito. Gli anarchici sono tornati in piazza, ma il cortè è stato bloccato dalle camionette della polizia in piazzale Aldomoro e non sono mancati momenti di tensione. La polizia, schierata in tenuta antisommossa per evitare scontri, con la carovana di solidarietà per il detenuto che era diretta verso il penitenziario romano di Rebibbia. Parliamo ora di politica. Francesco Rocca, neoletto presidente del Lazio, sta già lavorando alla nuova squadra di governo. Sono un mosaico da comporre tenendo conto degli equilibri della coalizione di centrodestra. Un'aggiunta politica a trazione Fratelli d'Italia che conta 22 consiglieri sui 30 totali della maggioranza. Diversi però in odi da sciogliere. Il più votato tra le fila di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini, quasi 38 mila preferenze, è il nome in poll per la presidenza del Consiglio regionale. Un posto di peso nella nuova giunta lo occuperà anche Roberta Angelilli. Anche lei ha fatto il pieno di voti e nel curriculum vanta un passato da vicepresidente del Parlamento europeo. Tre papabili anche Antonella Origem e Fabrizio Ghera, primo a Roma con oltre 18 mila preferenze, vicino all'ala di Fratelli d'Italia che fa capo a Rampelli. In quota Lega il nome caldo è quello di Pino Cangemi. Per Forza Italia si guarda Giorgio Simeoni, già vicepresidente e assessore ai tempi della giunta a Storace. E parliamo ora di ciclismo perché nella giornata di ieri al Campidoglio è stato presentato l'arrivo del Giro d'Italia 2023 che terminerà proprio con l'ultima tappa nella capitale. Per la quinta volta nella storia la Corsa della Maglia Rosa terminerà a Roma e i ciclisti dovranno affrontare un percorso di 17,6 chilometri da percorrere per cinque volte, tecnicamente non difficile ma immerso fra le bellezze della città eterna. Per il primo cittadino l'arrivo della Corsa della Maglia Rosa a Roma è un momento memorabile figlio del lavoro svolto dall'amministrazione. Il Giro d'Italia, ha detto Gualtieri, è un pezzo importante della storia della città e del paese. Obiettivo è quello di rendere Roma città protagonista del Giro e rendere il Giro un elemento qualificante di Roma con un tragitto che raccoglie il meglio che la capitale può offrire in termini di bellezza e di luoghi simbolici. E ora un omaggio ad Alberto Sordi. Roma infatti avrà una statua dedicata a lui entro il 2023. Il progetto in occasione dei 20 anni dalla morte del grande protagonista del cinema italiano è stato annunciato dal vicepresidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, Gian Battista Faralli. Durante la presentazione del libro Caro Alberto a cura di Alberto Crespi, realizzato con le lettere dell'archivio Sordi, con Walter Veltroni, presidente onorario della Fondazione, con un'introduzione di Giuseppe La Terza e letture di Paolo Conticini. La Fondazione ha approvato la proposta del municipio 5, formato dai quartieri storici, spesso location di film, con protagonista anche Sordi. Presto ci sarà anche un bando per artisti under 35 per scegliere il prototipo che meglio rappresenterà Alberto Sordi. Chiudiamo con il Carnevale. Maschere, stelle filanti e coriandoli sono molti gli eventi organizzati a Roma in occasione del Carnevale 2023, sia per adulti che per i più piccini, come feste, cari allegorici e sfilate. Oltre alla capitale, però, si veste a festa tutta la regione Lazio. Fra gli appuntamenti, imperdibile è senza dubbio quello di Ronciglione, in provincia di Viterbo, che dalla capitale dista circa una sessantina di chilometri. Tanti eventi sono stati organizzati proprio a Roma, fra tutti spicca il Carnevale Testaccino, dal 17 al 19 febbraio. Mentre, come detto a Ronciglione, l'appuntamento fondamentale è nel comune del Viterbese, con giornate intere dedicate al Carnevale, in cui grandi e piccini potranno godersi la sfilata di carri allegorici, assistere agli spettacoli di strada, mangiare ottimo street food e festeggiare con le maschere tipiche e i travestimenti più moderni. Con questa notizia si conclude anche questa edizione del Tg regionale, qui su Canale 81 Lazio. Grazie per l'attenzione e vi rimandiamo alle prossime edizioni. Grazie.